un kit di riparazione per cellulari dei cacciaviti a stelle a taglio di varie dimensioni in particolar modo piccoli una action cam ovviamente questa è una ti hai il 60 e un action cam da 60-70 euro circa lenti per telecamere di sicurezza con filettatura m12 un microfono a condensatore un cavo usb rotto da cui recuperare piccoli cavi per riparazione un saldatore d'elettronica stagno per saldatura un mini trappolo simile con flessivo una punta diamantata per mini trapano delle spazzoli in ottone o in ferro per mini trapano e una punta per mini trapano con carta abrasiva di grossa grana